Il degrado in piazza Mazzini sta arrivando a livelli veramente inaccettabili. La messia a orde di immigrati bivaccano lungo la piazza e spesso ubriachi molestano i passanti. Inoltre da giorni due donne senza tetto in uno stato psicologico alterato dormono in piazza Santa Maria Maggiore nelle attrezzature ludiche del parco giochi. Dove sono le istituzioni? Dove sono le associazioni dediti all'accoglienza? Dove sono i partiti di sinistra che si professano vicini alle fasce deboli? Urge un intervento per aiutare le due malcapitate e per sottrarre all'incuria e all'abbandono la storica piazza di la messia terme. A dichiararlo l'ex consigliere comunale Mimmo Gianturco si tratta di una situazione veramente paradossale. Ciò che accade in piazza Mazzini è la fotografia plastica dello stato di degrado in cui versa tutta la messia e l'indifferenza dell'amministrazione comunale di alcune associazioni e partiti vicini agli ambienti di sinistra ci evidenzia l'ipocrisia che regna in città. Eppure proprio in piazza Mazzini, sottolinea ancora Gianturco, hanno aperto una sede politica a soggetti che lavorano presso strutture cooperative che forniscono assistenza e accoglienza ai migranti provenienti dal continente africano ma evidentemente non si accorgono o non si vogliono accorgere delle difficoltà e dei bisogni di due donne, una italiana e una di origine ucraina ma domiciliata in città da 20 anni che vivono da diverso tempo a pochi centimetri della porta d'ingresso della loro sede. Probabilmente sono impegnati a prestare opere caritatevoli a chi gli fa accreditare gli ormai famosi 35 euro destinati per la gestione degli immigrati sbarcati sulle nostre coste tanto da ignorare chi è già presente sul nostro territorio.